Si chiama Elisa Fava, a 21 anni, risiede dal mese. Nei giochi mondiali universitari invernali di Lake Placid nel 2023 ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dello snowboard, ma ha anche trionfato due volte in Coppa Europa, dalla prossima stagione parteciperà alla Coppa del Mondo. E' toccato ad Elisa l'onore di essere la prima tedofora della torcia che reca la fiamma del sapere, in un tour che parte da Torino il 20 settembre e si concluderà nel capoluogo subalpino il 13 gennaio 2025, in occasione della cerimonia di inaugurazione della 32esima edizione di quelle che un tempo si chiamavano Universia di Invernali. Da Rabatta a New York, da Roma a Lausanna, da Trento a Caivano, da Milano alle otto città piemontesi sedi universitarie, la torcia alla Guarini porterà la fiamma del sapere e il suo messaggio di speranza e fratellanza fra gli atleti studenti di tutto il mondo. E prima di tornare a Torino la torcia e la fiamma arriveranno nei comuni che, insieme al capoluogo, saranno sedi delle gare, Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. Elisa, per te che le università le hai vinte l'anno scorso, che emozione è tenere in mano questa fiaccola? È un'emozione unica, soprattutto tenerla nella mia città natale e nei luoghi dove ho cominciato a praticare lo sport che mi ha portato fino a qua, fino a portare la fiaccola a Torino. È un'emozione unica ed è un onore e ringrazio a chi mi ha dato questa opportunità unica. Quando inizia la Coppa del Mondo di Snowboard? Le prime gare si terranno in Cina il 28-29 di novembre, per poi passare a altre due tappe sempre in Cina il 5-6 di dicembre, per poi passare invece in quelle di Coppa del Mondo in Italia, Carezza e Cortina. Io invito tutti i giovani a venire a vedere e a partecipare a questi giochi sportivi, perché oltre ad essere un'esperienza sportiva è anche un'esperienza di condivisione e di conoscenza con molti atleti e studenti universitari. Per te che fai sport e che studi, quanto è difficile abbinare i due impegni? È un grande impegno e sono tanti anche sacrifici, però vale la pena fare tutto questo per i propri obiettivi e il proprio sogno.